scoprite i nostri corsi unici per pianisti di ogni livello corso base per principianti apprenderete le basi della tecnica pianistica corso di perfezionamento per pianisti in cerca di crescita affinerete le vostre abilità e ampierete il vostro repertorio corso di alto perfezionamento per i più avanzati un programma intensivo per eccellere nell'arte pianistica masterclass con artisti internazionali un'opportunità unica per imparare da maestri di fama mondiale unisciti a noi e inizia il tuo straordinario viaggio pianistico all'accademia pianistica di catania contattaci per ulteriori dettagli